Pebbino Impastato e Radio Out rivivono attraverso una cooperativa sociale cerignolana nel Foggiano, Alter Eco, che con grande abnegazione ha ricordato sempre ogni anno la figura di colui che sfidò Cosa Nostra nel 1978 e rivivrà attraverso Radio Out che andrà in onda al ciclo continuo per tutta la giornata del 9 maggio sulle sito www.radioattivoweb.org. All'insegna dell'ironia e della semplicità saranno trattati temi attuali come mafia, corruzione ed immigrazione. Gli interventi sono importanti tra cui quella della vicepresidente di Libera Daniela Marcone, del referente per il Messico del settore internazionale della stessa Stefano Fumarulo e del presidente dell'associazione Ghetto Out Nelson Mandela, Pab Najai Jamil.